Quattro mesi fa Direzione Italia a Taramo ha chiesto un incontro urgente al Sindaco di Taramo, Maurizio Brucchi, per affrontare dei temi che riguardano la città. Finalmente l'appuntamento è arrivato. Sì, a quanto pare sì. Proprio questa mattina sono stato contattato dalla Secretaria del Sindaco per fissare un appuntamento entro fine mese, quindi sarà fatto pure da qui a breve. Devo ammettere, ringrazio il Sindaco per l'apertura che ha fatto, però è stato accolto positivamente anche da tutti gli altri amici di Direzione Italia. In fondo, come avrà visto sulla richiesta che gli abbiamo mandato, altro non sono che dei temi per la città, dei temi che già da quando era assessore stiamo portando avanti, che poi inesplicabilmente si sono bloccati e si sono fermati. Quindi noi andremo a chiedere di sbloccare questo, di portare avanti questo e l'occasione tra l'altro sarà utile per riportare al Sindaco tutte quelle esigenze e criticità che troviamo nell'incontro che stiamo facendo nelle frazioni. Quindi possiamo unire le due cose. Ripeto, poi dopo l'incontro vedremo come sarà andata se ci sono dei segnali positivi. Il fatto stesso è che comunque abbia voluto dar seguito alla nostra richiesta e ricevere, ripeto, per noi è una cosa che gradiamo e apprezziamo. Qual è la posizione di Direzione Italia in questo frangente politico? Le dimissioni che non sono state appunto portate avanti dal primo cittadino e poi il bilancio imminente, qual è in fin dei conti la vostra speranza? La continuazione dell'attività amministrativa di Brucchi o effettivamente la mancanza di fiducia e quindi di conseguenza alla fine di questa amministrazione? Questo dipenderà da loro perché nessuno si augura il male di un sindaco o di un assessore o qualsiasi altra cosa. Se rimane quella situazione di impasse, di stallo, come è stata fino a oggi, credo che oggettivamente tutti pensano che è il caso di andare a casa e che venga un commissario o una nuova amministrazione prima o poi. Se invece, a quanto pare, i dissidenti la smettono di essere folgorati, futuro in, rinuncia a qualche appetito poltronistico e si possa cominciare realmente a parlare dei temi della città, ci sarà il bilancio, se il bilancio viene approvato vuol dire che quello è il massimo atto politico e amministrativo di un'amministrazione. Se quello viene approvato vuol dire che ci sono i presupposti per andare avanti e arrivare fino alla fine consigliatura. Chiaramente, se ricominciamo che ci sono problemi di numero e quant'altro, io penso che il sindaco se ne debba fare una ragione.